...demoria di Gramsci, ma non è che dico nulla di... Tornando al punto, la questione è semplice. Nella società del capitale è evidente che questi esseri umani verranno utilizzati come materiale da sfruttare. Questo è il punto fondamentale, la cosa grave della società di capitale, che si finge di voler accogliere questi esseri umani provenienti da... No, in verità non si finge di voler accogliere, tendenzialmente non si vuole proprio accogliere. Sì, che ve lo è un'altra cosa, ma la logica è questa. Stiamo parlando di una marcia in cui si dice non venire. Si finge di integrare, di accogliere per poi sfruttarli. Quindi il punto è questo, fondamentale. Questa è la logica. Verranno sfruttati. Lo dico già, forse, proprio nella vostra trasmissione, mostraste un bellissimo servizio in cui si diceva che cosa ne facciamo dei migranti? Beh, bisogna fargli fare il volontariato. Cioè che sfruttamento, scusatemi, imporre una persona di volontariato si chiama sfruttamento. Ma io faccio un ragionamento molto meno filosofico e più pratico.